Il grido dei genitori e delle associazioni di persone autistiche è rivolto alle istituzioni. Si è tenuto stamani un incontro presso il Dipartimento di Salute Mentale in via a Martin Luther King di Salerno per parlare di molte questioni spinose legate all'autismo. Lo spunto è il progetto Pilota, che però viene visto con una sorta di scetticesmo da molti genitori di ragazze autistici che hanno presentato e firmato una lettera con ben 10 punti all'ordine del giorno, indirizzato al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giulio Corrivetti. Si parte dall'avvio della shortlist temporanea con l'inserimento di figure di riferimento, passando dalla durata del progetto Pilota e dalla presa in carico globale di una rete educativa dello stesso fino ad arrivare alla presenza di figure specialistiche ABBA ed anche quello di garantire il monitoraggio dei singoli interventi. Ne abbiamo parlato con Vittorio Nadeo dell'Associazione Autismo Chi si ferma è perduto. Se ne esce con questo incontro, che oggi loro hanno chiamato la giornata dell'Asperger, l'Asperger è un alto funzionamento, invece noi siamo tutti bassi funzionamenti, quindi abbiamo bisogno di avere un percorso fluido in cui ogni genitore può morire in pace e avere un percorso stabilito per i propri figlioli. Oggi dovrebbe essere stabilito l'intervento dei neuropsichiatri, che stabiliranno come gestiranno le loro NPA, i nuclei di cui parla Corrivetti, che personale sarà messo dentro, se sarà creata questa short list che noi abbiamo chiesto, una short list che faccia partecipare tutti senza inficiare nessuno, i dipendenti delle cooperative, i dipendenti dei centri accreditati, i professionisti che ad oggi sono quasi sempre esclusi. Gli interessi. L'autismo è un problema, noi lo viviamo H24, quindi il business deve fuoriuscire. Non devono guadagnare le cooperative, perché sta scritto che le cooperative devono guadagnare, o i centri accreditati che devono guadagnare. Quando le normative vigenti, 833 del 78, legge, vabbè non mi soviene l'altra, comunque sono leggi che non permettono esplicitamente di intervenire per l'autismo, e invece si persevera a dare i soldi. Cioè io invece di andare, mi rompo la gamba, invece di andare dall'ortopedico, mi mandano spesso dall'oculista. E non vale, non funziona così. Quindi il nostro tentativo è quello di coordinare, infatti abbiamo chiamato al tavolo, le varie società, le varie vari enti, per sinergizzare e costruire un percorso unico. Se non viene costruito questo percorso unico, non a chiacchiera affatti, noi siamo stati scelti del progetto pilota, perché realmente abbiamo dei team in essere, team non costruiti dall'ASRA, non costruiti dal comune, non costruiti dalla scuola. Cioè i nostri operatori vanno anche a scuola, pagati dalla famiglia. Quindi siamo in una situazione di... E il progetto pilota vuole mettere fine, fine, al misunderstanding dell'intervento. Cioè in che senso? Non è che a scuola ci va una persona staccata dal team, a casa viene un'altra staccata dal team, un analista coordinatore è estraneo. Sono tutte persone vincolate a un unico percorso.